In questa nuova puntata di Trasforma la tua vita, il coach e mentore Carlo Lesma ci aiuterà a capire come possiamo trovare la nostra missione di vita, la nostra strada, quando siamo spaesati e non riusciamo a dare un senso e un indirizzo alla nostra esistenza per sentirci pienamente appagati. Non perdetevi l'appuntamento venerdì 7 giugno alle ore 20 sul canale 17 e sulla pagina Facebook Telecolor Live.